Anche qui l'amministrazione catanese, mi raccontano i nostri consiglieri comunali, insomma rispetto alla precedente, diversi disastri dai buchi di bilancio in poi, si cerca di ricostruire, si cerca di immaginare un futuro. Fratelli d'Italia vuole esserci, vuole esserci nelle prossime elezioni amministrative, vuole esserci nelle prossime elezioni regionali, perché anche l'amministrazione crocetta pare sotto gli occhi di tutti, che si possa definire la peggiore della storia siciliana. Quindi noi vorremmo che il Partito Democratico smettesse di tenere in piedi qualcuno che sta devastando la Sicilia, che staccasse la spina, lo mandasse a casa, consentisse ai cittadini siciliani di tornare a votare e noi ci saremo, ci saremo anche con la lista di Fratelli d'Italia per sperare di costruire un futuro migliore e diverso. La destra delle volte ha anche deluso, noi ce lo dobbiamo dire, alla prova dei fatti e invece ci vuole la capacità di rimanere fermi attorno alle proprie idee, di difenderle sempre quando le cose vanno bene e quando vanno meno bene.